L'area C non va in vacanza. È questa l'ultima novità dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'area B, una zona più grande con divieti di accesso, limitata da ben 16 telecamere in prossimità di altrettanti accessi. Le telecamere diventeranno 100 nel giro di un anno, per poi, a regime, coprire tutti i 186 varchi. Il rischio di incorrere in sanzioni perché disinformati quindi sarà notevole in entrambi i casi. Per quanto riguarda l'area C in particolare, tranne il giorno di ferragosto rimarrà sempre attiva e non subirà il fermo degli scorsi anni, dovuto, spiegano dal Comune, all'aggiornamento del sistema elettronico, esigenza ormai superata dalla tecnologia. L'area B, invece, in vigore dall'autunno, non sarà oggetto di sanzione dove mancheranno le telecamere. Tuttavia, se l'automobilista verrà fermato da un vigile, incorrerà nella sanzione stabilita per la zona traffico limitato. Si tratta di un provvedimento che riguarda 230.000 auto. Potrebbe sembrare poco, visto che si tratta di un parco di 1,9 milioni di auto, ma si tratta di una cifra ingente se si pensa alla montare di ogni multa.